internazionale. Buongiorno, saluti, bentrovati, siamo qui con la professoressa sovrintendente Elena 54 che conosce bene la nostra penisola sorrentina, arriva di volta in volta per sistemare più cose e oggi le chiediamo, questo è un importante convegno, quali sono gli obiettivi e le motivazioni? Gli obiettivi sono vari, intanto dare un aggiornamento su tutte le ricerche in corso, quindi da parte degli istituti che operano nel territorio telegreeo, quindi la sovrintendenza, il parco dei campi telegree e gli istituti universitari e quindi ragionare insieme sulle forme di valorizzazione da comunicare. Professoressa, abbiamo scolto il programma e ci manca un paragone di rastrometro con altre città, credo, qual è la situazione di Paola Giancani Montuoni? Giusto per avere... Vedrà che ogni relazione conterrà dei riferimenti a quelli che sono i contesti di confronto, ovviamente come una delle importanti colonie della Magna Grecia ci sono elementi di confronto con moltissime altre poleis e quindi questo poi uscirà delle sue relazioni. Ma tutto questo dove devo mettere? Diciamo così, abbiamo molto da raccontare. Dove devo focalizzare l'attenzione, professoressa, tutto, tutto il programma. Grazie. Arrivederci.